Tre racconti di Herman Melville che ho letto recentemente, poco conosciuti, poi avevo letto Bartleby lo Scrivano un po' di tempo fa e quello però l'avevo già postato. Volevo invitarvi all'ascolto di questi tre racconti perché li trovo interessanti, fanno parte, ci ritrovi una certa unità con l'impostazione di Melville, secondo me grandioso scrittore. Partono da un'impostazione che riguarda uno stato mentale del protagonista, il protagonista si trova sempre in una situazione di crisi, di depressione, di malinconia, di melanconia, come succede anche per il protagonista di Moby Dick quando decise di mettersi in viaggio e di andare poi a Nantucket e poi ad imbarcarsi per il suo viaggio in mare. C'è una ricerca, insomma, c'è un tentativo di uscire da questa situazione di malinconia in cui si vede nero dentro se stessi ma in cui anche tutto quello che accade intorno è contagiato da questa visione, cioè da questo modo di percepire la realtà, no? Tutto è triste, tutto è nero, tutto è scuro. E qui, insomma, interviene, insomma, in questi racconti qualcosa, interviene la figura dell'altro, di un qualcosa che sta fuori di sé. C'è un incontro, quindi, no? C'è un elemento che ti permette di uscire da questa situazione o perlomeno, se non di uscire, di accettarla, di elaborarla, insomma, di non concentrarti soltanto nella tua tristezza, nella tua impossibilità, insomma, no? Di una vita più aperta o perlomeno di accettarla, di accettare la vita così com'è, secondo poi quella che è anche, insomma, la visione di Melville, insomma, no? In cui, in qualche modo, c'è una difficoltà, in cui le cose stanno già scritte in partenza. Nessun uomo saprà mai il suo stato nei preti, nei sacramenti, nella famiglia, né Dio potranno aiutarlo nel suo difficile cammino. E allora, in questi racconti, che si intitolano Chichi Ricchi, e che si trova poi insieme, in un volume, insieme con Bartabri lo scrivano, L'altro racconto che ho letto è Il violinista, che ho riletto, insomma, perché avevo già letto in passato, e l'altro ancora è Il venditore di parafulmini. C'è una certa ironia e anche un'autoironia in questi racconti, no? Quello più elaborato, insomma, anche perché è più lungo, è Chichi Ricchi. E anche qui il protagonista parte da una situazione di depressione, insomma, no? Vede tutto triste intorno a sé, insomma, no? Ma c'è la presenza di un elemento, è pieno di debiti anche, insomma, è pieno di cose che potrebbero, diciamo, portarlo all'annullamento. Ma c'è a un certo punto che un gallo che canta, insomma, no? Un gallo che canta, ma che canta in maniera particolare, tanto che lui, come dire, pensa che se un gallo sia proveniente da chissà dove, lo chiamo un gallo di Shanghai, che sia venuto da lontano, che sia costato chissà quanto, perché col suo canto riesce a cambiare tutta la percezione delle cose, sia del suo mondo interno che anche del mondo che si muove intorno a lui e in cui proietta anche la sua tristezza. Quindi quando canta questo gallo tutto diventa più sopportabile, no? E quindi riesce a vedere anche con molta auro a descrivere, insomma, no? Questo suo stato d'animo e un po' come i creditori lo perseguitano e così via, insomma, con molta autoironia anche, no? Non ci ride sopra, è sagazze in questa sua descrizione di questa cosa. E quindi questo gallo ha questo potere, insomma, e quindi c'è l'incontro con questo gallo, un incontro con un qualcosa che cambia la percezione della realtà. Ovviamente questo gallo probabilmente ha un significato simbolico, no? Gallo, insomma, la luce che vince le tenebre, Cristo, insomma, la figura di Cristo che toglie il mondo dalle tenebre del peccato. Questo gallo, e quindi, implica una ricerca, insomma, lui a un certo punto va a cercare, insomma, e comincia a chiedere di questo gallo. E al termine di questa ricerca, insomma, c'è una conoscenza, conosce anche una persona, una persona che è stata sfigata come lui, che ha attraversato un sacco di difficoltà, che è sposato, ha quattro figli, la moglie, insomma. Ma tutti i malati, i figli malati, la moglie malata, lui non ha un soldo, quindi si adatta a fare dei lavori, non protesta, finché gli sega la legna, rimane lì sotto la neve, manza anche sotto la neve, non chiede neanche di entrare, poi lui lo fa entrare. Arriverà un momento in cui lui, che ha un debito, che deve pagare questa persona che gli ha tagliato la legna, e che quindi va a casa sua, finalmente scoprirà che è lui il proprietario di questo gallo e vorrà comprarlo anche, no? E questa persona, tra l'altro, è talmente sfigato che aveva una mucca che serviva per dar da mangiare il latte, insomma, a questi bambini, che sono tra l'altro rachitici, no? E anche questa gli muore, insomma, quindi non gli immane nient'altro, ha solo questo gallo. E lui gli chiede di venderglielo questo gallo, no? E gli offre anche un bel po' di denaro, insomma, no? Però lui è ricco di questo gallo, perché questa persona, questo incontro che lui ha fatto, oltre al gallo, il padrone del gallo, vive questa situazione di dramma, vive tra l'altro in un luogo fuori del mondo, insomma, in un luogo anche sfigato, e però non si lamenta, lui è contento. Quando sente cantare il gallo, e anche i suoi figli che stanno male, insomma, no? Quando sentono cantare questo gallo, non sentono il dolore, insomma, non soffrono. Tu percepisci che non c'è sofferenza in questa figura, no? Il finale non ve lo lascio, ma, insomma, in questo racconto, la chiave è la presenza di questo qualcosa che è il gallo, insomma, no? Che attraverso il suo canto, la sua presenza, questa cosa che testimonia la sua presenza, ma anche proprio il canto, insomma, che è un canto squillante, rende tollerabile l'esistenza, cambia i connotati dell'esistenza, ti fa percepire che c'è una possibile felicità al di là della tristezza del presente, che c'è forse un qualcosa, un qualcuno, penso sia un simbolo, ovviamente, no? Che ti fa vedere una luce al di là del buio in cui vivi, insomma, e questa luce ti fa sopportare anche questo buio. Tanto è vero che nessuno di questi personaggi si lamenta, lo senti gemere in malinconirsi per questa esistenza triste che conducono. E quindi il racconto è un po' un cammino, è una storia che va verso la ricerca di questo gallo e poi vedremo che, appunto, che lo troverà e vedremo cosa succederà. L'altro racconto che volevo invitarvi ad ascoltare, insomma, secondo me è bellissimo, è il violinista, è già postato, ma l'ho riletto, ho cercato di leggerlo meglio di come l'avevo postato prima. E anche lì è un incontro, è un incontro di una persona che aveva un momento di frustrazione perché era uno scrittore, insomma, ed era stato castigato dalla critica e quindi viveva questo insuccesso. E un amico gli presenta invece un'altra persona, un amico, un proprio amico, e quindi fanno conoscenza e lui incontra questa persona nuova e questa persona nuova gli suscita un grande interesse perché è una persona piena di gioia, piena di entusiasmo di vivere. Vanno, guardano insieme un pagliazzo in un circo e lui si gode tutto questo spettacolo del pagliazzo, tanto è vero che il protagonista guarda più questa persona che non il pagliazzo. e c'è questa felicità che traspare, no? E sembra che sia così, insomma, a volte le persone che si lasciano così, che diventano felici per poco, felici con poco, sono delle persone semplici, diciamo così, a volte degli scioccarelli, quindi anche lui la prima impressione è che possa essere uno scioccarello, anche se poi parlandoci trova che è assolutamente interessante tutto quello che dice, trova che ha tutto un suo equilibrio, finché poi non arriveranno a scoprire che questa persona in realtà non era una persona semplice, una persona che ha saputo che quando era piccolo era una persona geniale, che lui aveva conosciuto nel momento in cui questa persona era geniale, era un grande artista, un'artista di cui si parlava nel mondo, però a un certo punto aveva rinunciato a questa sua carriera, non se ne aveva più sentito parlare, tanto si pensava che fosse anche morto, no? Una volta che questo lo invita a casa sua, insomma, e lo sente strimpellare un motivetto banale, insomma, riconosce nel suo modo di suonare questa grandissima arte che lui aveva, la capacità di questo amico di rinunciare anche alla fama, all'arte, al denaro, no? Di fare una vita comune, banale, di sembrare una persona qualsiasi, però conservando la sua genialità, insomma, la genialità non si può perdere, insomma, dice a un certo punto del racconto. E nel momento in cui lo scopre, allora, diciamo, è ancora più affascinato da questa persona, non pensa più al suo insuccesso, e quindi alla sua delusione, alla sua tristezza, al suo fallimento come scrittore, anche se questo lo portava a credersi, no? Qualcuno, qualcosa di importante, insomma, ma verifica che in realtà non è quello che è l'importante, insomma, l'importante è appunto il saper vivere, il saper utilizzare, il saper essere, come dire, il saper essere comunque felice, insomma, aver trovato una chiave nella propria esistenza, tale da, come dire, da essere affascinanti anche per gli altri, come lo era questo incontro che lui ha fatto. E quindi questo incontro è capace di modificare la sua vita. E cosa fa? Andrà a comprarci un violino e andrà a lezione, andrà a studiare, a imparare il violino da questo amico. Insomma, ha capito che si può anche rinunciare, insomma, alla propria carriera, non pensare al proprio fallimento, ma che l'altro aspetto, insomma, quello di realizzare, insomma, la propria esistenza, trovando un equilibrio nella propria felicità, al di là, insomma, dell'aspetto artistico. Questo è già sufficiente per vivere bene, insomma, e per uscire dalla tristezza, che è la chiave, un po', insomma, in cui ci si trova sempre quando si incontra Melville, che è anche il presupposto con cui inizia Moby Dick. L'altro racconto, che è il venditore di Parafulmini, mi ricorda, insomma, così un po' uno dei dialoghi di Leopardi, dell'operetta morale, insomma, no? Di questa persona che va a vendere un Parafulmini al protagonista, il quale vive tranquillo, insomma, nella sua casetta, insomma, e cerca di, come dire, cerca di creargli delle paure, in modo che hagli da fargli comprare qualcosa, e da fargli comprare il Parafulmine, insomma, no? Quindi cerca continuamente di suscitargli delle paure, delle inquietudini, perché va durante un temporale, insomma, no? Perché è il momento ideale per vendere poi il Parafulmine, per spaventare questo a cui vorrebbe vendere questo Parafulmine. E quindi è interessante la dinamica che si verifica tra questi due personaggi, tra uno che sfrutta a ogni occasione possibile per indurre delle paure immotivate nell'altro e nell'altro che invece cerca di riportarlo, insomma, a una situazione più concreta e a non voler essere disturbato in questa sua percezione della vita. Se chi ha voluto vedere in questa storia delle allusioni religiose, insomma, no? Cioè, il venditore di Parafulmine come un sacerdote che promette la salvezza eterna a chi ottemperi a certe norme, insomma, un po' la vendita delle indulgenze, insomma, ai tempi di Lutero. Quindi questi tre racconti che messi insieme, insomma, che ci aiutano a capire anche il Melville scrittore, insomma, al di là del suo capolavoro, insomma, no? di Moby Dick insieme con Bartabee lo scrivano. Bartabee, altro personaggio, insomma, no? Che ha questa chiave di isolamento, di non comunicabilità, di tristezza esistenziale, insomma, no? Che però riesce a mettere in crisi l'io narrante del racconto, no? Con il suo comportamento, con il suo preferirei di no. E su Bartabee ci sono tante interpretazioni, si sono sbizzarriti anche filosofi importanti, insomma, no? Da Deleuze a Daganben nel cercare di interpretare questo suo rifiuto o non rifiuto, no? Preferirei di no. E come questo in realtà ha messo o mette in crisi, insomma, in un certo mondo. Alla fine di questa presentazione volevo un attimo citare il primo capitolo di Moby Dick che trovate letta integralmente nel mio canale perché descrive, insomma, no? La depressione, la melanconia, lo stato di melanconia e le motivazioni che portano Melville a uscire da questo stato di melanconia. Citarlo attraverso le sue parole, quello del primo capitolo di questo straordinario romanzo, no? Quello che spinge il protagonista a muoversi, insomma, a uscire, ad andare verso il mare. Mare, un po', la rappresentazione dell'infinito, dello spazio immenso. Primo tra questi motivi fu l'idea travolgente della stessa grande balena. Un mostro così portentoso arcano destava la mia curiosità. Poi i mari deserti e lontani dove rollava la sua massa come un'isola, i pericoli indescrivibili e sconosciuti della cazza. Tutte queste cose e le meraviglie che le accompagnano di mille aspetti e suoni patagonici contribuivano a springermi verso il mio desiderio, l'andare verso il desiderio, quindi il trovare la realizzazione del proprio desiderio in un qualcosa. È quello insomma che permette di uscire dalla melanconia. Altri uomini forse non avrebbero trovato in tutto ciò nessun motivo di attrazione. Io invece sono tormentato da un'ansia continua per le cose lontane. Questa è insomma un po' un'ansia anche romantica, no? Il lontano, l'Oriente, l'indefinibile, mi piace navigare su mari proibiti e scendere su coste barbare. Non ignorando ciò che è bene sono svelto nel percepire un orrore e tuttavia se mi è concesso non me ne ritraggo. Affronto tutte le esperienze insomma, sia quelle buone che quelle cattive insomma. Ho il coraggio di non tirarmi indietro se realizzo il mio desiderio, se vado incontro al mio desiderio. Perché non è che bene sapere essere amico di tutti gli ospiti del posto in cui si abita. Non è che bene riuscire a trovare un modo di stare insieme tra tutti, conoscere tutte le persone che abitano il globo terraqueo e riuscire a stabilire anche relazioni con loro. D'altronde c'è anche il fatto, il destino che condiziona le sue azioni, no? Questo destino che ha l'incarico di sorvegliarmi continuamente, segretamente mi pedina e influisce su di me in qualche modo inspiegabile e senza dubbio la mia partenza per questo viaggio a Balene faceva parte di un grande programma della Provvidenza trazzato molto tempo fa. Lui segue un destino, cioè segue un desiderio, quello di andare per mare, ma questo viaggio è anche diciamo nelle corde del fatto, del destino, di un disegno trazzato già da sempre, insomma. Chi non è schiavo, ditemelo, e dunque per quanto i vecchi capitani mi facciano sfacchinare, per quanto mi sbattano intorno a spintoni emanate e ho la soddisfazione di sapere che tutto è secondo giustizia, che ogni altro uomo viene servito in un modo o nell'altro supergiù allo stesso modo, o sul piano fisico o su quello metafisico, voglio dire, e così la pestata universale viene trasmessa dall'uno all'altro e le mani di ognuno dovrebbero fregare le scapole dell'altro con soddisfazione di tutti. Quindi, insomma, ce n'è per tutti prendere, quello che manda il destino, non ci si può tirare indietro completamente. E il mare, no? Questo è simbolo anche dell'infinito, dell'immenso, no? I greci gli assegnarono un Dio a parte. Tutto ciò non è senza significato, è ancora più profondo il significato di quella storia di Narciso che non potendo afferrare l'immagine tormentosa gentile che vedeva nella fonte si tuffò e morì annegato. Ma quell'immagine la vediamo noi stessi in tutti i fiumi e gli oceani. E qui dice una frase molto bella, no? È l'immagine del fantasma inafferrabile della vita. E questo è la chiave di tutto. È l'immagine del fantasma inafferrabile della vita. Quello che noi ci rappresentiamo della vita ma che non possiamo conoscere della vita. Cioè, nessuno ce la farà mai conoscere, la possiamo così come è nella sua essenza. Ma la possiamo immaginare, quindi come ognuno la immagina così pensa che sia. Ma come è veramente nessuno lo sa. Ci lascia sempre con molto con dei grandi interrogativi Melville, no? Si fa percepire molto molto di più oltre quello che oltre quello che dice, no? E anche di di arrivare a dirsi, no? Qual è il senso profondo della vita di una felicità possibile impossibile insomma ma di una ricerca della felicità oppure di seguire il proprio desiderio, no? È molto più secondo me molto più densa, molto più interessante sentirla raccontata attraverso dei racconti che non sentita didascalicamente insegnata. Trovarla in letteratura questo tipo di riflessione indirettamente attraverso il racconto è molto più efficace che trovarla come insegnamento nelle parole dei filosofi per esempio una buona giornata direttamente